Dobbiamo ancora lavorare tanto, possiamo comunque far bene anche perché ancora il roster non è completo. C'è qualcuno della tua squadra che ti ha sorpreso, qualche ragazzo visto Stern, Holt, come sono? Ma sono dei grandissimi lavoratori entrambi, Holt lo conoscevo dallo scorso anno a Perugia, quindi non è assolutamente una sorpresa. Un gran talento fisico, ovviamente tecnicamente ancora ha grossissimi margini, quindi può far bene. E anche Stern è un ragazzo molto interessante perché quotidianamente ci mette il suo, ci mette tutto, quindi secondo me la strada è quella giusta. Poi il Giangio in questo è molto bravo a tracciare una strada e a portarci a seguirla giorno dopo giorno. Insomma ti vedo molto felice di questa scelta. Sì, sono assolutamente felicissimo da ogni punto di vista, quindi speriamo di regalare a Verona una soddisfazione o qualcosa, se non altro per restituire a Verona quello che Verona sta dando a me. Ma vedrai che siamo appena all'inizio, grazie. Buon lavoro, buon torneo. Adesso credo che venga presentata una squadra di giovani, vero Alessandro, tu che sei più esperto di me. Allora quella che vedete è la squadra che giocherà qui quest'anno al Palazzo di Villafranca, è la squadra della Blue Volley della Calzedonia, meglio, che prenderà parte al campionato di Serie B nazionale.